L'avvocato Basilio Scaffidi, responsabile del Movimento 5 Stelle di Brolo, oggi si è tenuta in una riunione organizzata dagli ex consiglieri di minoranza, una riunione dove erano invitati tutti i cittadini. Lei da cittadino brolese vi ha partecipato e ha avuto modo di esporre le sue idee e i suoi pensieri. Abbiamo saputo che ci sono stati magari dei contrasti proprio durante il suo intervento. Anzitutto colgo l'occasione per ribadire un concetto. Io faccio veramente i miei complimenti al gruppo di minoranza non solo per l'attività svolta finora ma anche per questo dibattito che comunque è stato un grande esempio di democrazia come del resto lo è stato quello organizzato noi giorno 11 gennaio presso la Sala Ritatria. Io non volevo aprire nessun alterco, nessuna discussione violenta. Io semplicemente ho inteso, è stata mia volontà porre dei quesiti ad alcuni, a due miei ex colleghi di minoranza, i quali lo sono stati nel mandato 2007-2012 e comunque volevo portare alla conoscenza di molti cittadini brolesi alcuni fatti storici importanti perché a mio avviso un popolo come anche una piccola collettività come quella di Brolo senza la propria memoria storica non può assolutamente agganciarsi con salde radici nel presente e quindi gettare le basi per un buon futuro. e allora nel tentativo di prendere il microfono sono stato ostacolato in quanto io insieme agli attivisti locali del Movimento 5 Stelle abbiamo distribuito tra i presenti in sala un volantino con dei quesiti che ora vi leggerò punto per punto che sono stati letti evidentemente dagli ex miei colleghi e i quali allora non hanno voluto accettare il confronto e hanno cercato di sottrarmi la parola. Ho restituito il microfono, del resto l'organizzazione era loro ma fortunatamente i cittadini di Brolo più che per curiosità veramente per volontà di conoscere di sapere i fatti hanno chiesto a gran voce che mi fosse restituita la parola. Allora ho fatto quello che ho ritenuto il mio dovere da libero cittadino e ho letto, elencato quelli che erano i sette punti. Se mi è consentito, perché è giusto che anche i non presenti, io al mio incontro vi avevo invitato, vi avevo invitato per una diretta streaming. Credo che sia stato un grande esempio di democrazia, credo che la registrazione in sala sia un fatto molto importante. Qualora ci dovessero essere altri eventi voi, come le altre emittenti, avete il dovere di venire a registrare. Siccome non avete avuto modo di essere presenti, voglio fare in modo che i cittadini che non erano presenti si pongano queste domande e magari possono anche chiedergliele, farsi un'opinione liberamente. Il volantino aveva il titolo Per conoscere e non dimenticare, lo leggo parola per parola. Con questa breve nota colgo l'occasione per esternare la mia più sincera stima nei confronti del gruppo degli ex consiglieri di minoranza. Rilevo tuttavia che la solezia da essi manifestata in quest'ultimo mandato non coincide con l'operato di alcuni miei ex colleghi di minoranza, appunto il mandato 2007-2012. Orbene, poiché ritengo necessario che tutti coloro che operano in modo rilevante nel panorama politico, sia esso istituzionale che sociale in genere, debbano rivolgersi alla collettività in modo trasparente e senza tralasciare alcun aspetto del loro operato, mi è sembrato opportuno che tutti i prolesi possono essere resi adotti dai diretti interessati su quei siti che qui di seguito saranno elencati. Nel 2007 il sottoscritto scrivente ha presentato circa una settantina di atti fra interrogazioni e stanze varie che quasi mai i colleghi hanno voluto sottoscrivere. Una delle mie prime preoccupazioni è stata quella di conoscere la situazione economica del Comune di Brolo, chiedendo di poter avere copia dell'elenco dei creditori e dei debitori, o comunque di tutte le situazioni debitori dell'ente, quindi non per forza debiti fuori bilancio. Ebbene, 1. Come mai i miei ex colleghi Gaetano Scaffidi, Lallaro, Irene Ricciardello mi hanno sempre ostacolato in queste iniziative? 2. Come mai i miei ex colleghi, insieme all'attuale onorevole Nino Germana, mi convocavano in riunioni per invitarmi a non tenere un atteggiamento troppo stile nei confronti dell'amministrazione comunale? 3. Come mai i miei ex colleghi, insieme all'attuale onorevole Nino Germana, mi convocavano in riunioni per invitarmi a non mettere in difficoltà l'ufficio ragioneria, in quanto il responsabile dello stesso era un amico di famiglia e comunque ospite abituale della famiglia Ricciardello Germana. 3. Come mai il sottoscritto, quando ha pubblicamente denunciato a Bomini nel piano regolatore, che hanno di fatto avvantaggiato economicamente i familiari dell'onorevole Giuseppe Laccoto, vicenda a casa per gli anziani, tanto per intenderci, è sempre rimasto solo in queste battaglie, in quanto, secondo gli ex colleghi Gaetano Scaffidillallaro, Irene Ricciardello e l'attuale onorevole Nino Germana, queste non erano tematiche degne di considerazione? 5. Questo attuale gruppo politico, il quale apertamente si manifesta vicino all'onorevole Germana, è ancora sottoposto alle pressioni, ai veti e ai diktat di alcuni gruppi politici e imprenditoriali che fanno riferimento appunto all'onorevole Germana, al signor Giuseppe Ricciardello e al signor Antonio Agnello, come ai tempi del mio mandato di consigliere comunale? 6. In una seduta del Consiglio Comunale di Brolo del 2012, l'ex sindaco Salvatore Messina ha dichiarato che l'ex consigliere comunale Gaetano Scaffidillallaro, durante le elezioni comunali dello stesso anno, ovvero quando era candidato il dottor Conobruno, gli avrebbe elemosinato con un piattino in mano un posto in giunta come assessore. Signor Gaetano Scaffidillallaro, gliela pongo anche qui la domanda. Secondo lei, perché l'ex sindaco Salvatore Messina avrebbe fatto una così pesante affermazione nei suoi confronti? Ci sono fatti che noi cittadini brolesi non conosciamo? 7. Se intenderete costituire il nucleo di una nuova lista civica per le future elezioni comunali, avete già scelto un metodo per eleggere il vostro candidato sindaco? Se l'avete già scelto, in base a quali criteri è stato selezionato? Ebbene, terminato l'esposizione dei quesiti, ho restituito il microfono, hanno replicato Irene Ricciardelli e Gaetano Scaffidi con alcune invettive, anche non bere nei miei confronti, che spero avrò modo di replicare, senza di fatto replicare a nessuno dei sette quesiti esposti. Ora, è giusto, dopo questa mia un po' lunga esposizione, che tutti voi cittadini brolesi possiate farvi liberamente un'opinione. Io colgo l'occasione dinanzi a voi per invitare ad un dibattito pubblico, oltre che per discutere del futuro delle proposte, mi piacciono le loro proposte, tante coincidono con le mie, con le nostre, il Movimento 5 Stelle locale, per fare chiarezza su questi punti. E quindi invito sia Irene Ricciardello, che Gaetano Scaffidi-Lallaro, che il signor Giuseppe Ricciardello, che il signor Antonio Agnello, che l'onorevole Nino Germana, che più volte è invitato a dei dibattiti pubblici, a tenerne uno, su questi punti, su qualsiasi altro punto, ma in particolare su questi sette, perché una collettività che non conosce il proprio passato non può piantare radici solide per il presente e per il futuro. Grazie. Grazie.